Amici di Milan.soccer buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione rosso-nera. Milan.soccer tutti i giorni, tutte le mattine, ore 6 e 45, bene 7 giorni su 7 ricordatelo. Prima di iniziare vi chiedo come sempre un piccolo sforzo, qui sotto abbiamo un link in descrizione, c'è un'app, un'app importante, importante perché vi apre un mondo, un mondo fantastico, fatto di informazioni in tempo reale, tutte dedicate alla vostra squadra del cuore, al Milan e soprattutto tutte dedicate agli aggiornamenti relativamente al cacciomercato, a tutte le cose che più ci interessano. Bene, dite che voce così, allegra? No, non passa, no non passa, no non passa, no non passa, mi dispiace, più passa il tempo e meno passa l'incazzatura. Perché quello che è successo l'altro giorno, quello che è successo l'altro ieri, l'altra sera, è qualcosa che io ritengo essere un punto indelebile. Indelebile è una parola che ho cercato in maniera chiara, ho cercato attentamente il significato di indelebile, impossibile da togliersi, da togliersi di dosso, neppure un tatuaggio, neppure un tatuaggio, è indelebile. Indelebile è qualcosa che ti rimarrà addosso e sinceramente lo dico molto francamente, quello che continua a succedere in queste ore, e ora ne parliamo, mi dà davvero tanta noia. Dunque, zitti e tifate. Questo è il nostro ruolo, il tifoso deve tacere e tifare. Giusto, bravo, esatto caro Gerry Cardinale, zitti e tifate. E' uno simoro, zitti e tifate, zitti e tifate. Ok, tifiamo, zitti, in silenzio, no, tifiamo con la voce. C'è un piccolo dettaglio che ti sfugge, c'è un piccolo dettaglio che ti sfugge, piccolo, un piccolo dettaglio che ti sfugge, che noi per tifare paghiamo. Io recito, questo faccio di mestiere, scrivo copioni e recito. E' capitato che sono andato sul palco e addosso avevo tutto tranne la voglia di recitare. Tutto tranne la voglia di recitare. Però poi guardavo dietro la tenda e c'era gente che aveva pagato. E voleva sorridere, ridere, star bene, vivere un'emozione. E allora ti parli e ti dici quelli sono lì per te. Non hai voglia? Fallo. Ma non fallo. Fallo bene. Perché non c'è nulla di peggio di ascoltare dei fischi che arrivano dalla platea. E' la cosa più imbarazzante, più umiliante. Noi abbiamo applaudito alla fine di quella partita. Quando si dice io ci credo. Vedete, il sogno o la realtà? Da una parte c'è il sogno, c'è la voglia, c'è il credo, c'è l'amore, c'è una forma laica di religione. Altro simoro. eppure, eppure, martedì saremo ancora lì, dopo una settimana di ampie prese per il culo. E voi che fate? Parlate del nuovo stadio, parlate del bilancio. Noi non abbiamo sentito una parola, una parola di Maldini, di Massara, di Gerry Cardinale. Forse qualcosa di Scaroni, ma probabilmente pur essendo il presidente conta quanto me, cioè nulla. Abbiamo parlato di Leao, dice Scaroni. Mi domandate di Leao. Ma vedo sorridente Maldini e Massara. Gestiscono loro. Starà andando bene. Questo è il modo di rispondere di un presidente della squadra di calcio dell'AC Milan. E va bene, d'accordo. C'è un piccolo dettaglio che ci risulta però. Che Leao ha sì firmato un preliminare, ha sì firmato più con il cuore che con la mano, ma qualcuno ci viene a dire che, attenzione, qualora il Milan non dovesse entrare in Champions League, questa clausola verrebbe fatta valere da Leao. Quindi noi ci ritroviamo con un derby di semifinale di Champions League perso in maniera ignobile. Una squadra, quella che più non amiamo, noi non odiamo nessuno. Quella che meno amiamo, l'Inter, che probabilmente, ora continueremo a tifare, a stare zitti, a zitti e tifare, ma che probabilmente arriverà in finale di Champions League. Meglio non parlarne. E poi ci ritroviamo con un piede fuori dalla Champions League in Serie A, ci ritroviamo con una finale di Supercoppa d'Italia persa male contro l'Inter, ci ritroviamo con un passo fuori dalla Serie A anche per aver perso male un derby, ci ritroviamo fuori dalla Coppa Italia cacciati come gli ultimi della Serie. E voi? E qualcuno? Mi viene a dire che questa non è stata una stagione fallimentare? Non solo è stata una stagione fallimentare, ma è stata una stagione fallimentare con grandi responsabilità e coincidentemente con le squadre che meno amiamo che si trovano proprio lì, dove saremmo dovuti a stare noi. Io sono anche abbastanza stanco di vedere i derby, perché ogni volta che li vediamo, ma questo l'abbiamo detto ieri, dobbiamo essere lì come se fossimo una squadruncola contro un gruppo di affamati, di leoni. Io sono molto stanco. Ecco, zitti e tifate. Il problema è che voi, cara società, siete qui per fare affari e non si gioca col cuore degli altri. No, non si gioca con il cuore degli altri. Noi siamo un canale piccolo, ma stiamo crescendo, e questa voce rimarrà per sempre, fino a quando qualcuno mi darà la possibilità di parlare e io parlerò, perché voglio scoprire e voglio far scoprire a tutti che a voi del Milan non frega un cazzo. L'hanno capito? Bene, lo ribadiamo. Quello che mi fa più specie è che in un contesto di questo tipo poi ci sia un allenatore che si permette di andare a fine partita a dire che l'Inter ha fatto bene il primo tempo e il Milan il secondo tempo, solo che loro hanno segnato e noi no. Ma che cazzo dici, Pioli? Cosa cazzo dici? Cosa dici? Con chi pensi di parlare da quest'altra parte? Noi li vediamo, eh? Un gol, due gol, un tiro, un palo, un rigore, umiliati. Sembravamo la squadra di Fantozzi. Poi mi ritrovo un dirigente muto, nessuno ha parlato ieri, nessuno ha detto scusate, nessuno ha detto miau, bao, ciao, niente, tutti zitti, come sempre, come quando abbiamo perso la Supercoppa d'Italia, come quando abbiamo perso come le pirla contro squadruncole che avremmo dovuto sbranare, nessuno dice niente di una campagna acquisti terribile, se non Scaroni ha detto non abbiamo un piano B, eh di Cattelere rimarrà, aspettiamo, 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 continuiamo ad aspettare, anzi sai che cazzo vi dico? Vi do un consiglio, vi do. Fate un altro contratto a Ibraimovic, 43, 44, 45, così ci prendono per il culo, oltre al fatto che siamo una squadra che ieri ha meritato veramente di essere presa in giro, ma solo che ci andiamo noi in mezzo alla strada, caro Maldini, caro Massara, caro quell'altro che non mi ricordo come ti chiami, ci siamo noi ad andare in mezzo alla strada, da quando ero bambino ero tifoso del Milan, ora mi ritrovo dirigente, eh complimenti, complimenti. Io non so quando passerà questa cosa, presumo mai, indelebile, questa è la parola, presumo ci vorrà molto tempo, ora verranno fuori ipotesi di calciomercato nulle, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di spendere, attenzione, nel caso in cui non dovesse andare in porto la Champions League ci ritroveremo un panchinaro del Borussia Leverkusen, oppure uno che gioca in terza serie in Francia, perché Moncada ha pensato che questo potrà diventare un fenomeno. Scusatevi, mi dispiace, o non facevo il video, ma questo non è niente, e continuerò, e continuerò e porterò questa voce fino a lì, fino a dove potrò portarla, io la porterò. Io amo il Milan, ma non i giocatori del Milan, non i dirigenti del Milan, io amo il rosso e amo il nero. Ciao.